Sfonda il muro del milione di presenze la città del Natale di Arezzo negli ultimi due giorni di apertura del mercatino tirolese e la casa di Babbo Natale che hanno chiuso e battenti il 26 dicembre, le presenze ad Arezzo sono state di 1 milione e 100. C'è da scommettere dunque che con tutte le iniziative che proseguiranno fino al 6 di gennaio, questi numeri saliranno ancora e Arezzo è stata scelta da tanti turisti per trascorrere proprio la festa più solenne, il Santo Natale. Intanto ringraziamo i tirolesi che hanno smontato e grazie a loro per la sinergia con loro che comunque riusciamo a portare tanta gente, quindi doppia comunicazione e tutto il resto. I numeri quest'anno ci hanno stupito anche perché non pensavamo di superare i credito lo scorso anno, invece siamo andati ben oltre, anche perché oltre ai fini di settimana classici, quelli di fine novembre e comunque di dicembre, quest'anno è andato molto bene anche la parte finale di dicembre, tant'è che addirittura per Natale, cosa che non era mai successa nella storia di questa città, le strutture ricettive avevano tanti turisti che sono venuti proprio il 25 e il 26 a visitare l'Arezzo. Si dice sempre che per Natale si sta a casa, invece quest'anno ha funzionato molto bene, infatti siamo curiosi di capire se questo trend proseguirà, tenendo di conto che il Capodanno ormai è già tutto sold out da tempo, per la Befana c'è movimento, quindi siamo convinti di essere riusciti a fare un bel numero di turisti in più.